Non voglio finire sui social col seno di fuori. La furia di Matilde Brandi all'Isola dei Famosi. Ecco i finalisti. L'Isola dei Famosi corre verso la finalissima di mercoledì 5 giugno, in prima serata su Canale 5. In finale, oltre a Edoardo Stoppa, sono arrivati Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Franco e Samuel Peron. Non ce l'hanno fatta la modella Carina Sapsai, entrata all'ultimo nel gioco, e Matilde Brandi, che ha cercato di lottare con le unghie e con i denti, senza mai mollare. Ma la showgirl non ce l'ha fatta contro il televoto ad eliminazione con Edoardo Franco e Samuel Peron. La Brandi però si è resa protagonista, suo malgrado, di un fuori programma HOT durante la prova dell'orologio onduregno. Nello spostare il tronco di legno pesantissimo alla concorrente è rimasto incastrato il costume, in diretta si è visto il capezzolo. Ad allertarla ci ha pensato la conduttrice Vladimir Luxuria, ma la Brandi sconsolata e furiosa ha ribadito. Non voglio finire sui social così con il seno di fuori. Nella prima ho mollato perché avevo il seno di fuori, poi Alvina ha 10 kg più di me, io peso 50 kg, era più giusto che questa prova la facessero due uomini. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.